Una notizia grandissima di sport perché ha a che fare con la città di Pesaro, Toroski Center, questa società appunto di pattinaggio di velocità su rotelle e su ghiaccio che sforna veramente campioni, allena dei campioni come in questo caso. Oggi conosciamo ma abbiamo già conosciuto in precedenza Linda Rossi perché ci deve parlare assolutamente delle vittorie ai campionati europei. Linda. Allora, sono tornata più o meno una settimana fa dai campionati europei in Portogallo, diciamo come ho già detto anche al mio allenatore è stato uno dei campionati più belli che abbia mai fatto, dove mi sono portata a casa due ori e quattro bronzi, ma non è proprio le medaglie che qua pesano ma il fatto che diciamo che l'ambiente è stato veramente una figata, super e la nazionale quest'anno è stata davvero top. Quindi mi porto a casa queste medaglie che a me servivano e sono anni che le rincorro e questa volta ci sono riuscita e per me è una grande emozione. Allora, complimenti a te Linda, complimenti anche a Michele Ravagli che ti ha allenato, che ti ha preparato, come è avvenuta la preparazione e soprattutto qual è la tua soddisfazione ad avere dei campioni così in società? La preparazione è avvenuta in modo minuzioso, è avvenuta attraverso anche tante gare che abbiamo fatto durante il corso dell'anno, ricordo che Linda prima dell'europeo ha vinto ben sei titoli tricolore e un argento su sette gare disputate ai recenti campionati italiani, quindi era un po' già sull'onda questo risultato. La preparazione con un atleta di alto livello si cura nei minimi dettagli, sono dei cavalli di razza di puro sangue con cui non si può sbagliare a livello emozionale e a livello fisico. E la soddisfazione Torolski è doppia perché Linda è stata convocata come atleta rappresentativo della nazionale e sottoscritto è stato convocato come preparatore atletico della nazionale. Quindi ecco in un campionato europeo il Torolski Center ha portato due convocazioni, una a livello tecnico e l'altra a livello atletico, insomma, ecco, quindi bellissimo, bellissimo, bellissimo. Complimenti alla società Torolski Center, complimenti Linda, diciamo anche in questa occasione qual è il prossimo traguardo? Il prossimo traguardo è grande, pesante, diciamo, sono le Olimpiadi per me su ghiaccio e sto puntando a quelle, sto puntando tutta me stessa, quindi speriamo bene. Invece il prossimo traguardo del Torolski Center? Far riconoscere nel migliore dei modi e nel modo più ampio possibile il pattinaggio di velocità nel mio territorio, nella città di Pesano, nel territorio limitrofo, noi siamo una realtà regionale e quindi sviluppiamo questa passione che sta dilagando, abbiamo oltre 100 bimbi tesserati per noi e quindi questa è la nostra mission.